Scommetto che quella bagnarola è tua. Come fai a saperlo? Intuito. Brava, hai indovinato. Ma certo. Io mi levo tutti i capricci che voglio. Un tipo come te non può che avere una barca come quella. Vuoi salire? Perché? Ti va di scopare? Come ti chiami? Barbara, e tu? Giorgio. Vuoi sapere altro di me? A modo tuo sei un tipo interessante. Vuoi cenare con me stasera? Perché no? Allora possiamo vederci alle otto, al ristorante La Lampara, d'accordo? D'accordo. E mi raccomando la puntualità. E' guarda. Grazie a tutti.